Oggi voglio raccontarvi la storia di Nerone, di un cagnolino che fortunatamente sono riuscito a salvare. La nostra sala operativa segnalava la presenza di un cagnolino smarrito al chilometro 99, altezza di Sala Consulina, provincia di Salerno. Ci siamo regati sul posto, per prima cosa gli siamo fermati per poter rallentare il traffico, poi per poter avvicinare al cagnolino. Piano piano siamo riusciti a tranquillizzarlo e l'abbiamo preso. L'abbiamo portato in nostro ufficio di Sala Consulina, dove tutti quanti noi delle squadre l'abbiamo adottato, curato e l'abbiamo chiamato Nerone per suo colore. E l'abbiamo cucito anche una casacca di colore giallo con la scritta Anas. Qualche giorno dopo rientrava la collega dalle ferie e l'ha visto. Se ne è subito innamorata e l'ha adottata. Ogni volta che io salvo un cagnolino, un cane, è una soddisfazione per me, perché io ho affetto, ho amore per gli animali e per me è una soddisfazione bellissima. L'abbandono degli animali è un fenomeno ancora oggi molto drammatico in Italia. Se vedete animali smarriti vagare per le strade, chiamate chi di competenza. Se è il caso nostro dell'autostrada, contattate noi.